Verso il curriculum verticale per competenze e questo il titolo del seminario di studio che si è tenuto ieri pomeriggio a Teramo presso l'auditorium del Parco della Scienza destinato ai dirigenti scolastici e ai docenti di scuole di ogni ordine e grado. Un evento che si colloca all'interno di un progetto di ricerca e formazione coordinato dal dirigente della scuola capofila all'istituto comprensivo Savini San Giuseppe San Giorgio Umberto Larosa. Rappresenta l'evento finale di un percorso di ricercazione che dura da 4 anni, sono 4 anni scolastici, in particolare in questo anno scolastico abbiamo un po' fissato l'attenzione sul curriculum per competenze che è previsto dalle indicazioni nazionali 2012. Questo percorso ha visto impegnati diversi docenti di due reti di scuole, Teramo Innovazione per il Curricolo e Rete Valviprata. Tutte e due le reti sono formate da 7 istituti scolastici ciascuna. Il giudizio è sicuramente molto positivo perché abbiamo sperimentato già altre volte negli anni passati questi eventi e vedo che sono eventi apprezzati dagli addetti ai lavori, cioè dai docenti. Abbiamo iscrizioni da tutte le scuole d'Abruzzo perché è un tema di attualità, cioè noi focalizziamo che cosa è una competenza e come si deve elaborare un curricolo grazie a un progetto di ricerca che ha visto impegnati oltre 80 docenti delle diverse scuole. Tanti gli ospiti che sono intervenuti all'interno del seminario. Le collaboratrici Invalsi, Saeda Pozzi per italiano e Stefania Pozio per matematica, il professore associato di didattica generale all'Università di Torino Mario Castoldi, il direttore generale del MIUR Abruzzo Carlo Petracca ed il dirigente tecnico Mariella Spinosi. All'esterno della sala è stato allestito uno spazio per l'esposizione dei materiali predisposti dalle scuole. Noi in realtà quest'anno con gli istituti comprensivi appartenenti alla rete siamo riusciti a lavorare su un aspetto del curricolo che riguarda la valutazione. Quindi sono state costruite delle prove di valutazione degli apprendimenti e altri strumenti sempre per la valutazione degli apprendimenti degli allievi. Quindi lo si pensa a questo come una componente di questa proposta formativa. Sicuramente i risultati sono stati molto positivi soprattutto da parte degli istituti comprensivi che sono entrati quest'anno nella rete. C'erano una serie di realtà scolastiche, dei nuovi ingressi diciamo, che hanno accolto con molto interesse la proposta che è stata fatta. C'erano una serie di realtà scolastiche, dei nuovi ingressi diciamo, che hanno accolto con molto interesse.